Abbiamo anche discusso ovviamente del conflitto in Ucraina, sappiamo molto bene che le nostre posizioni non sono sempre coincidenti, proprio per questo voglio dire che apprezzo molto la posizione che l'Ungheria ha mostrato finora sia in ambito di Unione Europea sia in ambito Nato consentendo agli altri Stati membri, consentendo agli alleati di assumere decisioni molto importanti anche quando non era completamente d'accordo, con Vittor in ogni caso abbiamo ribadito l'indiscusso sostegno alla sovranità, all'indipendenza, all'integrità territoriale dell'Ucraina, guardiamo insieme con grande attenzione alla sua ricostruzione perché ovviamente il modo migliore per guardare oltre la guerra è immaginare un'Ucraina che sia ricostruita, che possa prosperare, che possa crescere, come sapete l'Italia è molto impegnata su questo, organizzeremo qui nel 2025 la Ukraine Recovery Conference e quindi abbiamo parlato anche di questo.